Come puoi vedere. Ci sono 10 righi che contengono altrettanti frammenti di musica. Ed ogni rigo è identificato con una lettera dell'alfabeto. Ora ascolterai l'esecuzione dei 10 frammenti in ordine casuale. Per ogni frammento ascoltato dovrai riportare nella casella sottostante la lettera corrispondente al frammento che ritieni sia stato eseguito. Buon lavoro! Grazie per la visione! 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 Bene! Ora che hai finito, puoi contattare il tuo insegnante di musica all'indirizzo bit.ly barra Antonio Guida e chiedere, tramite il servizio chat, la soluzione dell'esercizio.